Certo, non siamo più nella valuta, non c'entro più. Eh, c'ha ragione, effettivamente la valuta mi manca molto. Ciao, Dona. Eh, che c'è? Mentre tu è un presente, non ho venti più. Ma stai di nuovo a parlare con Shrek? Eh, c'è qualche problema, sei geloso? No, non mi frega niente. Comunque, c'è un macello di là, che è successo? Eh, sì, prima sono arrivati due tizi, ha detto che ti hai trovato un armadio nuovo. Che armadio? Eh, quello che avevi ordinato. Io non ho ordinato un armadio. Come no? È strano. Boh, non lo so, l'hanno messo in camera mia? Sì, sì, sto proprio in camera tua. Boh, vabbè, andiamo a vedere, sta armadio, non lo so. Eh, io adesso sono impegnato a fare le importanti discussioni filosofiche. No, ok, giusto, sì, infatti, hai ragione. Per favore, quando fa le mie discussioni? Ah, io allora vado a vedere sta armadio. Vai, vado. Io ho fame. Come è possibile? Questo, questo è un bangla. Gra? Oh. Ma che è sta semella di spezia? Aga, ma dove stavi? Sono stato nell'armadio, Daniele, ho trovato... Ma non ti sei accorto che sono stato via delle ore? Ma come delle ore? Sì, mi sono anche ubriacato. Ma non è possibile, un minuto fa te ne sei andato dicendo di andare nel nuovo armadio. No, Daniele, io ho trovato dentro l'armadio, sono entrato, c'è un mondo, c'è un bangladino. Ma che sai dire? Ma questo sarebbe il sogno di tutte le persone del mondo. Daniele, è il sogno che si avvera. Non è possibile. Devi vederlo. Non ce sto a credere. Devi solo crederci. Ce lo vede? Ma tu sai cosa significa che c'è un bangladino dentro casa? Credo di sì. Che se spaccamo tutti i giorni. Che se spaccamo tutti i giorni. Quindi lo famo e basta. Dai. Tu devi solo entrare dentro l'armadio. Devi crederci. Basta. Allora lo faccio. Andiamo. Vabbè. Se è come dici te, allora io entro. Vai. Non entrai tu stesso. Ci vediamo dopo. Arrivo tu. Oh dear. Oddio, ma che giorno è oggi? È il 16 di gennaio Siamo obiettivi Da tre mesi Oddio Io dovevo laurearmi ieri Basta Basta con questa roba Dobbiamo finirla Basta Dobbiamo chiudere St'armadio per sempre Non ce la faccio più Basta Chiuderemo per sempre Basta con questa roba Basta con questa roba Grazie a tutti